Nadia Toffa è apparsa amareggiata sui social. La iena ha espresso il suo pensiero su una precisa categoria di persone Nonostante la chemioterapia, Nadia in questi giorni è rimasta lo stesso attiva sui social La giornalista ha continuato a pubblicare foto su Instagram invogliando i fan ad interagire con lei Poche ore fa, la iena ha lasciato i suoi follower senza parole, postando una scritta davvero commovente, ringraziando la nipotina Nadia Toffa è il duro sfogo sui social.Nadia Toffa ha voluto condividere con i suoi follower un pensiero molto speciale ricevuto dalla sua nipotina Nonostante la gioia per il messaggio della nipote, la iena ha postato sul suo profilo Twitter uno sfogo decisamente forte Nello specifico, Nadia ha chiesto ai suoi fan Cossa pensano delle persone potenti e dei loro atteggiamenti a discapito dei più deboli Nadia a quanto pare non sopporta coloro che cedono alle lusinghe favorendo i ruffiani A pensarla come lei sono stati anche i fan che senza esitare hanno condiviso il suo pensiero Nadia Toffa è l'amicizia tra uomo e donna.Pochi giorni fa, Nadia sempre sul suo profilo social ha voluto lanciare ai suoi fan un altro messaggio La giovane ha chiesto agli utenti che la seguono, cosa pensano dell'amicizia tra uomo e donna e se realmente possa esistere La bresciana ha cercato di avvalorare la sua tesi postando una foto insieme al noto giudice di Masterchef, Joe Bastianich Molti follower si sono subito scatenati pensando che tra i due fosse nato un vero e proprio sentimento Con tale post, la liena ha voluto far riflettere i suoi fan invitando tutti ad avere meno pregiudizi e soprattutto a liberare elementi, spesso influenzate dai preconcetti imposti dalla società Grazie a tutti